Sono in nove, in prima fila Don Giono Bell, Anthony Leone, Crack di Girifalco, Duccio, Bagheera LZ, Bel Giacomino Park, Colibri Getta, Apocalipto, seconda fila per Deliziosa Luis. L'allineamento si va completando quando mancano 200 metri alla chiusura delle ali. Crack di Girifalco, il più veloce. Insolitamente sollecito, Colibri Getta risale immediatamente. Primi 200 metri in 13 e mezzo, Colibri Getta sfila a condurre. Nei confronti di Crack di Girifalco, Bagheera LZ, la mette sul passo Alessandro Gucciadoro, primo quarto in 27 e mezzo. Si viaggia a media di 1 e 10 scarso. 600 in 41 e 7, Colibri Getta, Crack di Girifalco, lo rincorre, più dietro Bagheera LZ, poi Duccio. Metà gara in 56 secchi, da 1 e 10. Che selezione, che numero Colibri Getta. Mette in campo tutte le energie e completa il chilometro in 1,9 e 6. Colibri Getta sta facendo un autentico sproposito. Tre quarti di miglio in 1,23 e mezzo, anzi 1,23 secchi. Peccato non abbia partecipato all'otteria, ma solo all'attrice di Capannelle. Colibri Getta fa qualcosa di strepitoso, mentre più dietro Crack di Girifalco si deve difendere da Apocalipto e Belgiacomino Park. Colibri Getta realizza una media di 1,9 e 8. 1,51 e 7, con una piccola difesa caratteriale in retta d'arrivo. Fa 1,9 e 8. Mamma mia che numero! Per Colibri Getta i colori della Pink e Black, Alessandro Gucciadoro al doppio nel pomeriggio, anche per quanto concerne il team Gucciadoro. Il figlio di Ridley Express e Sarsenia Jet fa vedere di essere un autentico velocista, contrariamente a quanto pensavo, credevo fosse un cavallo da distanza, mentre invece fa un numero sulla breve. Per le piazze, Apocalipto, poi ce ne sono due molto vicini, Don Gionobella all'interno e Crack di Girifalco a centro, per cui c'è lavoro per il giudice d'arrivo per quanto riguarda il terzo posto.